Ciao ragazzi sono Ciletto8 e benvenuti in questo nuovissimo video Oggi siamo su Plants vs Zombies 2 Ma devo mettere ancora un tenete Fatti mettere Ma che un tenete dei C No Raga Ciro Salva Grazie Ok ragazzi ce l'abbiamo fatta Comunque se dovete iscrivervi il questionario che ho Grazie mille dai 64 Dobbiamo arrivare a 70 Perchè se arriviamo a 100 iscritti C'è evento speciale Una live Si Una bella Live Anzi Qua devi Non devi far uccidere I girasoli Quindi devi difenderli Lo ha il broccolo Che il mio preferito I girasoli E soprattutto questi Andiamo Noi non dobbiamo mettere subito Pianto Tutte le cose del genere Ah Grazie Noi dobbiamo Noi dobbiamo posizionare Qua Qua Prosto Che non fa male Mai Comunque Quanto cash ho E Pam 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 E non vale Non fare l'infam Cioè non servono per ora Perché dobbiamo solo difendere Quindi non serve Pam 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 Un bello pugnetto Non fa mai male Un bello pugnetto Un bello pugnetto Non fa mai male E dammi il cash Che devo spendere Per ora è normale Mi vuoi ciulare Mi vuoi ciulare cosa Cosa che se non Se non metti nemmeno paura Con quel cosino che hai sotto le mutande Scusa Questa è la prima ondata Comunque quelli verdi Saranno quelli radioattivi Che ci danno una bella fioria Fioia Fioia Bella fioia Questa è la foia La fioia Quella chiamo io Io lo chiamo sparapiselli Perché Non lo so In verità si chiama sparasemi Ma io lo chiamo sparapiselli Perché è un nome Di pura cultura 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 intelligente Però se la noce Non si mette La a caricare Quella mezz'ora Mannaggia Pippo Perché dovete sapere Su sto gioco Non mi piace Lasciare spazi Quindi Non mi piace Sono fatta Un perfettino Un perfettino Poi lo prendi a banana Poi lo vorrà Non c'è male Cioè se lo sparapiselli Arriva tanto Potrebbe Essere Che un colpo E uno zombie E' morto Cazzo E' difficile Uccidere uno zombie Capum Ha lanciato A cazzo di cane Vabbè Abbiamo vinto Una testa Di un Siamo zombie gigante Missione Completata Grazie Dai E' dacci Sto pacco Guarda Non ce lo vuole dare Ti vuoi riprendere Grazie Il broccolo Mi piace Ok Annaffiamo Andiamo a vedere Le mie piantine Come stanno Ah il girasole Andiamo Annaffiati Aspettiamo Sì proprio Ci vorrà Un po' Tu Bravo Grazie Non ci sono Che 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 Ok Ora Dobbiamo Andare Ad Aggiornare Broccolo Preferito Anche se Si chiama Cavolbotto Non Mi è Frio No Il nostro Obiettivo Come Parlo Oggi Ci Manca Poco Dobbiamo Arrivare All'un A 19 Ok Nel frattempo Riprendiamo Riclamiamo La Ricompensa Perché lo Vite Ok Se ci fa fare Questo altro livello Sempre un contenti Qua Scegliamo Ci prendiamo Anche Questo Che Che Non fa Male Questo è il bello Di quanto Hai tutto Potenziato Ecco Qual è il bello Grazie Per i money Grazie Siete troppo gentili Voi Mi piace Ok Dovete sapere Io con questo Ero fortissimo Solo che me lo sono Disinstallato E quindi Ho dovuto Cominciare Da capo Lo faccio Un Va Metà ZAC A per ora Siamo perfettamente A posto Ok raga Troppo facile Troppo Troppo Easy Per noi Ora Incomincia Il bello Grazie Per i girasoli Stiamo mettendo Tutto Di più Beccati questo Zombie Di merda Ha due belle Monetine Non fanno Mai male Due money Grazie Il suo sacrificio È stato Complessivamente Inutile Tanto Sto stronzo Lo rincontriamo In un'altra Mappa Quello Quella Quello L'ha Ghiacciato Ci scommetto Un rene Per ora Per ora Raga Tutta Bosto Eh No Chi arriva Ci ha un franco La mucca Non credo Abbiamo vinto Abbiamo vinto Manca uno Mettiamo Un monte Abbiamo vinto Abbiamo vinto Abbiamo vinto Successivo Diomodico Come parlo Come parlo Non avere più di 14 piante Come devo vivere allora scusami Let's go 13 piante Per ora Quindi dobbiamo fare Così Questa è una sfida Difficile Non posso avere più di 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 Non posso avere più di 14 piante Già ne abbiamo 10 Rimani Manager PIP Questi saranno le nostre risorse Per ora Comunque ragazzi Come vedete Stiamo in selle Difficoltà Tanto quello È bello Sette Haha Sapevo Io sapevo Fini tutto Bene Sei Oppure sette Nerd 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 il gioco Perché dai bug Mamma mia Noi dobbiamo mettere Tutto Mixato Perché se no Tre 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 Pam Due si col cazzo ho due ma l'ha tolto veramente è un bastardo ora gli faccio capire chi sono dobbiamo sprecare questo ce l'abbiamo fatta campioni del mondo pam 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 alcune volte ci stanno anche i trofei vediamo qui non c'è l'ape l'apetta ah beh ho detto che è ricoglionita sta ape potete sapere che se la cliccate troppe volte mi manderà ok ok stiamo al diciottesimo quindi direi di farlo perchè al diciannovesimo sblocheremo il super sparafetto no non mi piace no già non mi piace no che due palle non possiamo utilizzare lo bellissimo dobbiamo fare così let's go vediamo che che succede che succede ok raga sta succedendo il bene il bene il bene pam sulla capo pam 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 quanti camelli ci stanno raga tempesta di sabbia no per ora per ora stiamo a metà mettiamo qua una bella bomba comunque 64 iscritti io almeno quanto ero bambino dovete sapere che mi aspettavo già 10.000 10.000 100.000 ero famosissimo invece sto crescendo piano piano 64 iscritti incredible e raga mi sai fra poco moriamo si no se l'è mangiato il brutto bastardo che brutto se l'è mangiato povero gabbiano tanto raga teniamo la fogliolina magica basta sti tornati scusate raga papapam papapam dai un bel cazzotto dai la finita dai schiatta morto morto alleluia antico egite 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 ok raga questa è stata un poco più dura però ce l'abbiamo fatta ci manca pochissimo a sbloccare il super spara semi super spara pesce arracquiamo le altre piante che stanno soffrendo sempre sti margherite incredibile non c'è un girasole uno spara piselli scusate no questo è ora sbloccheremo il nostro super spara semi sbloccheremo sbloccheremo ah si non avere più di 16 plante sovravi senza altre palle questo è un po' cioè dai andiamo come il solito dobbiamo fare così perché sennò il gioco non è e già stanno mandato 11 12 ora si ci aspetta uno spara si qua non c'è niente mannaggia riacciamolo eccolo davvero dura davvero dura ma fattibile senti lei se niente vorresti dire bello le zia che vuoi perculare bellissimo raga bellissimo anche il mio suono raga giusto eh giusto ghiacciatelo tutto pazzo tutto pazzo pam 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 ghiaccio credo è sempre esiste il ghiacciolo eh sii raga superato il livello l'abbiamo sbloccato missione completata wiii la pirlaggine la pirlaggine di ciretto spara due segni invece di due mi sembra ragionibile no eccolo broccolone broccolone andiamo alla mappa ma scusami sicuramente se non lo conoscete sui ruber 24 ore games porta sempre sto qua sto gioco miglioriamolo che vi devo dire raga lo dobbiamo migliorare no il danno questo è quello che fa più danno calendula non è una margherita è un calendula che cazzo conosce il calendula eh il calendula allora io ragazzi gli ho gli ho detto vi stare zitti e non chiamare più perché mi ero rotto il cazzo eh sì ok facile ah sì teniamo ora il cash vamonos pronti partenza sgancia perché nasci là scusami non potrei non potrei nasce un po' più qua no pram bello bello ho aspettato così tanto oh quanto quanto cacciare questo cash scusate però il cash quanto vuole cacciare sto aspettando che cosa sto dicendo oggi quanto è trecce sto video quanto è trecce sto video da uno a dieci scusate raga ho dovuto spendere questi soldi avevano un po' rotto l'anima qua non hanno difese mi stanno distruggendole ora non passeranno mai più voi mortissimi con dietro l'insalate qua è difficile l'otto diamo fine alla loro sofferenza morti abbiamo vinto dai dacci il cash blocchi giratori di gemelli ah si si dove cazzo sta che soglia stams di giratori di gemelli qua ragazzi ma io mi sto a fare il giardino vieni di 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 a no ti devi sbagliare porca vacca pam 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 questo è il bello di plank versus dubbio ah stanno la i genoi di vedere sti due pirla allora spero che questo video vi sia piaciuto lasciando like e fedevi al mio canale e anche a quello di facebook mobile spero che questo video vi sia piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al mio canale ma già l'ho detto che coglione dunque al prossimo video ciao ciao